In compagnia del nostro primo ospite è qui con noi Domenico Sergio Antonacci, guida turistica Oscar per l'Ecoturismo 2022, premio ricevuto al TTG di Rimini solo qualche mese fa. Domenico buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi innanzitutto. Complimenti per questo traguardo tagliato solo qualche mese fa, questo perché tu sei una guida turistica e con il tuo progetto Gargano Natur accompagni tante persone provenienti da tutta Italia a scoprire il nostro meraviglioso Gargano. Quando nasce questo progetto e in che cosa si caratterizza? Gargano Natur nasce a fine 2016 e l'intento principale è stato sin dall'inizio quello di raccontare un Gargano diverso da quello che conosciamo normalmente, da quello che conoscono anche i turisti che scelgono questo territorio. Quindi aree interne, boschi, sentieri sconosciuti per raccontare soprattutto la storia e la natura del nostro Gargano. È un progetto che coinvolge più guide, quindi io sono il referente ma ci sono altre guide che grazie appunto al loro lavoro hanno permesso l'anno scorso di raggiungere questo importante riconoscimento. Quindi è un lavoro di squadra, questo sicuramente. Stiamo vedendo nel frattempo degli scatti che sono stati realizzati proprio da te, dal tuo team che arricchiscono questa nostra chiacchierata. Questa dovrebbe essere un'alba, quella che vediamo nello schermo? Sì, questa è l'alba del primo gennaio dell'anno scorso e come si può capire facciamo escursioni non solo in tutti i luoghi ma anche a tutte le ore, notturne, all'alba, anche diciamo a orari normali, però ci piace sperimentare e conoscere il Gargano in tutte le sue vesti. Dove ci troviamo esattamente su questo scatto? Qui siamo a Monte Saraceno, nel territorio di Mattinata, è un sito archeologico tra l'altro molto semplice da visitare, quindi sono percorsi anche adatti a tutti, è un luogo panoramico dove normalmente si vede il mare, in questo caso vedevamo una sorta di nebbia, un fenomeno che si è ripetuto anche quest'anno nel periodo natalizio che copriva il mare ma ha reso tutto ovviamente più magico. L'alba del primo dell'anno da Monte Saraceno è un po' una bella abitudine che avete perché la riproponete ogni anno, ma Monte Saraceno non è bello solo per lo scenario che offre ma anche perché è un luogo ricco di storia. Sì, appunto c'è questo sito archeologico panoramico, diciamo noi, legato ai Dauni, un popolo che venne qui sul Gargano intorno al X-XI secolo a.C. E poi ecco sulla costa del Gargano possiamo ammirare anche i faraglioni di Baia delle Zagare, qua siamo sul sentiero Baia dei Mergoli, sentiero che viene chiamato con un nome particolare se non ricordo male. Queste zone hanno vari nomi, poi anche turistici se vogliamo, Baia dei Mergoli, Vignanotica, Baia dei Gabbiani, Baia dei Faraglioni, c'è un po' di confusione, però noi poi raccontiamo anche queste storie che ci portano alla toponomastica e alla sua evoluzione. Sei qui oggi con noi anche perché nonostante siamo ancora in pieno inverno sul Gargano stanno iniziando a fare capolino le orchidee. Le orchidee che sono uno dei tratti distintivi del nostro territorio perché, ecco ne vediamo una proprio in questo momento sul nostro maxischermo, perché sul Gargano ne fioriscono di uniche, ci sono degli endemismi proprio tipici del nostro territorio che arricchiscono appunto l'attrattività del nostro promontorio. Sì, stanno già spuntando le prime orchidee, in realtà da qualche settimana ormai, la prima è la barlia robertiana che è abbastanza particolare e facilmente individuabile anche per le sue dimensioni e domani facciamo proprio un trekking alla scoperta di queste orchidee. È una delle oltre 100 specie che crescono sul Gargano. Di queste 120, alcune decine sono endemiche, quindi nascono solo qui sul Gargano e attraggono esperti appassionati, fotografi da tutta Europa. Davvero, diciamo, è un'attrattiva molto importante e molto forte che noi stessi garganici ignoriamo in realtà e non riusciamo bene a cogliere. E quindi domani, nonostante le temperature, andremo a vedere queste prime orchidee. Io sono contento che tu stamattina ci abbia dedicato un po' del tuo tempo, anche perché sei uno di quei giovani che poteva lasciare il suo territorio e andare a lavorare ovunque, invece hai deciso di tornare dopo gli studi per valorizzare appunto un territorio ricco di tante bellezze naturali, di tanta storia e questo lo fai con il tuo progetto Gargano Natur, come dicevamo in apertura. E solo qualche mese fa al TTG di Rimini il tuo impegno è stato premiato con l'assegnazione dell'Oscar dell'ecoturismo. Com'è stato vivere quel momento? Beh, è stato molto importante per noi, un riconoscimento arrivato dopo sei anni di lavoro, diciamo così, un riconoscimento che arriva da fuori, da un organismo di livello nazionale come Legambiente, che ha riconosciuto in Gargano Natur delle buone pratiche di turismo sostenibile. E quindi è quel sospiro che si fa, e qui siamo tutti e quattro, tra cui c'è Matteo in collegamento virtuale, perché non è potuto essere con noi a Rimini, è quel sospiro che fai, dici, ah ecco, forse sto facendo, stiamo facendo qualcosa che vale, perché se si accorgono i noi al di fuori, vuol dire che... è la prova provata che state lavorando bene, ed è anche il motivo per cui siamo stati felici di invitarti qui con noi e di presentarti al pubblico che ci segue da casa. Mi auguro che sia soltanto la prima di una serie di incontri che magari potremmo fare insieme, attraverso i quali ci farai conoscere meglio il nostro territorio, le sue peculiarità, e allo stesso tempo, ecco, invitare chi ci segue da casa a conoscere, vivere sempre più la natura, che tante volte è a due passi da casa nostra, ma non la conosciamo bene. Questo perché, ecco, non solo per un discorso di maggiore consapevolezza dei posti in cui viviamo, ma anche perché fare attività in natura ci aiuta a stare meglio, senza dubbio. Assolutamente. Domenico, grazie per essere stato con noi, quindi questo non è un addio ma un arrivederci. Grazie a voi, vi aspetto su www.gargano-natur.it per conoscere le nostre escursioni. Bene, io do la linea alla regia e ci ritroviamo tra qualche istante.